Rispetto alle regioni italiane economicamente più avanzate, in Friuli, Venezia e Giulia le retribuzioni medie, lorde e annue dei dipendenti privati sono più basse. Ciò è dovuto al fatto che la regione più a est del paese è, ad eccezione di Trieste, caratterizzata dalla presenza di settori con livelli di produttività e valore aggiunto medio-bassi. Per rendere le buste paga più pesanti, soprattutto delle maestranze friulane, bisogna investire di più, incentivare la contrattazione locale, tagliare l'IRPEF e rinnovare immediatamente i tanti contratti di lavoro scaduti.